I dati sono veramente eclatanti, cioè le spaccate nei negozi si sono ridotte al lumicino. Mi ricordo benissimo l'anno scorso c'è stato un periodo che ogni sera c'è una spaccata su un negozio. La diminuzione dei furti negli appartamenti è stata del 35%, quindi è un dato veramente clamoroso con una diminuzione complessiva dei furti del 5% e quindi un dato complessivo di diminuzione dei reati dell'8-9%.